Lo avevano annunciato e la protesta prosegue. Oggi i sindacati medici e comitato cittadino si sono ritrovati davanti la sede della ASDL in via Saragat per un sit-in di protesta. A un mese dalla dichiarazione dello stato di agitazione per la problematica della sostituzione dei medici pensionati dei nuclei di cure primarie, non è mai arrivata una soluzione da parte della ASDL e neanche da parte della regione. Tutto questo nonostante un'interpellanza del difensore civico e nonostante la raccolta di oltre 7.000 firme a sostegno della battaglia promossa dal comitato cittadino. Presenti diverse sigle sindacali e consiglieri comunali ma la partecipazione è stata davvero importante segno anche dell'attenzione che i cittadini hanno rispetto a questo tema. I sindacati e i medici sono stati ricevuti dal manager Ferdinando Romano, i cittadini però chiedono risposte veloci, immediate. Io intanto ringrazio tutti i cittadini che coralmente hanno aderito a questa battaglia giustissima a difesa dei diritti alla salute, del diritto alla medicina di base, del diritto alla vicinanza del medico e della struttura medica. Tra l'altro vedo tantissima miopia in chi non sente la necessità di dare risposte positive a una battaglia che secondo me può essere risolta in 24 ore.